ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro g oggi vi propongo cernobilit sappiamo tutti quello che è successo 30 anni fa a cernobil precisamente centrale nucleare è esploso il reattore numero 4 rilasciando in aria una particella immane di gas ed anche di radiazioni purtroppo la città è stata abbandonata già da 30 anni fa le persone purtroppo non hanno mai più messo piede all'interno della città di pripiat e così hanno dovuto abbandonare la città lasciando le loro case i loro beni eccetera detto questo oggi vi propongo cernobilit andiamo subito con una nuova partita facciamo una media no 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 Igor, wake up, you sleepyhead. Look, look over there. Do you remember the glade just behind those trees? That's where you proposed to me. You were so nervous and sweet. You're still sweet, my professor Kimi Nick. Anyway, it feels good to return after all these years, doesn't it? What is the decor? You're still half asleep. Wake up. Don't wake up again. Tanya? Bene ragazzi, siamo sul treno e da quello che ho capito noi dobbiamo cercare la nostra fidanzata Tatiana. Il ragazzo in questione è Igor e noi siamo venuti qui dopo tutti questi anni a ricercare la nostra fidanzata. Dunque, vediamo un attimino di avanzare, di proseguire. Sì, è soltanto immaginaria per il momento. Infatti, perché sparisce? Sento il livello delle radiazioni veramente tanto. Ma vaffan club. Mi ci sono pigliato un cavolo di colpo. E come detto, la dobbiamo cercare perché noi siamo venuti proprio qui a Pripyat, in Ucraina, a cercare la nostra fidanzata dopo ben 30 anni. Però ci vuole veramente tanto fegato a ritornare qui dopo che la città è stata abbandonata 30 anni fa. E da quello che ho capito, ancora tutt'oggi, un po' di cittadini della zona si sono riappropriati delle proprie case. Ovviamente, anche se ci sta il livello delle radiazioni, il livello delle radiazioni è più alto vicino alla centrale nucleare, dove sono tutti quanti i detriti, eccetera. Anche se è pericoloso restare lì, perché non si sa quello che potrebbe accadere. E niente, questo è quanto. Oddio, ma perché abbiamo un'arma così, venuta da nulla? Mi sa che ora si combatte, mi sa che ora si spara. Mi sa che da sottoterra escono... Ecco là, il parco giochi. Mi sa che adesso qui da... Sottoterra dovrebbero uscire quantomeno dei mostri... Dove? Eccoli. Cerchiamo di non consumare tutti quanti i proiettili, perché sennò altrimenti rimango senza. Ah, già l'ho finiti? Bene. Sì, sti cosi qua purtroppo sono radiattivi. Sono già morto? Così? Senza un minimo di rispetto? Ah, bene. Eh, mi sa che mi ha fatto arrivare su questa parte. Ah, un'altra cosa. Mi avete detto di rimpicciolire un attimino la webcam. Io ora diciamo che più o meno l'ho rimpicciolita, però fatemi sapere anche qui sotto qui nei commenti se va bene oppure no. E tra l'altro ho fatto un pochettino di zoom, perché ero un po' leggermente lontano. Che cos'è che... Aspetta, che cos'è? Ah, eccola la foto. Oddio, sì, è la sua fidanzata. Tatiana. Oddio, ecco perché siamo ritornati qui. Proprio per lei. Per cercarla e credo salvarla. Il nostro vecchio laboratorio. Per quale logico motivo? Dunque, crafting station, dobbiamo cercare delle attrezzature varie, come ad esempio componenti elettrici, leggi, proprietà di future, deterrence, tecnologia. Ok. Dunque, abbiamo delle parti meccaniche. Sì, lo so che si sta sgredolando, però dammi tempo, tizia. E mi sa che devo cercare ancora dell'altra roba. Componenti elettrici anche, se non vado errato. Perché già l'avevo giochichiato prima di iniziare questo video. E sono onesto, mi piace. Cioè, almeno a me Garba, che poi, un titolo del genere giocato proprio qui, è ambientato qui a Chernobyl. Non sono mai stato capace di giocarlo. Torna al lavoro, è l'unico modo per uscirne. Va bene. Vediamo un po', possiamo craftare adesso qui. Fatemi da un'occhiata. Sì. Dovrebbe essere questo qua. A parte il fatto che abbiamo due parti meccaniche e una parte elettronica. Tutte le azioni disponibili sono elencate nel menu della barra degli strumenti. Fai riferimento adesso, ogni volta che non sai cosa fare. Puoi azionarlo sia con la tastiera che facendo clic su azioni specifiche. Crea. Generatore di portali. Ah, così? Dal nulla? Che poi, voglio dire, era già sul tavolino. Si spostano cose in maniera randomica. Ah, sì. È tutto a posto, non vi preoccupate. The entire zone is on lockdown. NAR doesn't screw around. Yeah. Let's just hope our source comes through and we don't run into any patrols on the way. And what if we do? We will improvise. That's what our sleeping beauty here paid us for, remember? Sure, sure. Do you really think they'll test this reclutivation something? I haven't seen any signs of that, but I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. Fuck you. I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this. Chernobylite? That's what it's called? Igor? Igor? Dunque, siamo con i nostri amici, con Oliver e Anton. Wake up, Igor. We have to go. What? I must have dozed off for a moment. Let's go. Dai su, andiamo, Igor. Sì, infatti tira sempre... ...la foto della fidanzata. If you're thinking about backing out, you need to tell us now. Not a chance. Let's get this over with. Facciamola finita. Ok, andiamo, va. You're sure that this planner of yours is going to work, Professor Kimenuke? Igor, please. And yes, it will. You two take care of your part and I'll take care of mine. All right? I'll try to keep a low profile. The last thing we want is a firefight. A fire? What are you getting into, Igor? It's necessary. It's something that needs to be done. I don't like riddles, Professor. But you're the boss. Reminds me of that night off in Syria. Remember that, Olivier? I do. Unfortunately. Ecco qui la centrale nucleare. Madonne, fa senso però, eh. Povera gente che è morta, purtroppo. I vigili del fuoco. Misha, we can't, we have to fall back. The pressure is dropping. Downstairs, now. Go, go, go. Maronne. No, veramente. Poveri pompieri che sono morti. Ovvio con le radiazioni. Dunque, dobbiamo attraversare qui. Dobbiamo proprio entrare qua, nella centrale. Sì, gentili. Sì, gentili. Sì, gentile, scusate. Sì, dai, sì, gentile. Oddio, fa... Ok, ci copriranno le spalle e noi dobbiamo arrivare alle fogne. La bussola nella parte alta dello schermo segnala gli obiettivi di personaggi importanti e gli eventi casuali. Tieni la d'occhio in caso... In caso ti perdessi o non sapessi cosa fare. Oddio. No, veramente, ragazzi, fa senso. Fa veramente senso. Oddio, ho visto proprio il documentario, il video, anzi il film, vero e proprio. Sono morti ben sei vigili del fuoco, perché all'inizio nessuno sapeva che cosa fosse successo, si credevano soltanto di spegnere un incendio, ma il vero pericolo loro purtroppo non lo sapevano qual era. E dopo un po' di tempo, purtroppo, sono rimasti senza capelli e sono morti per le radiazioni assorbite in quantità proprio industriale. E così sono morti ben sei vigili del fuoco quella notte. Soldato del NAR. Allora, aspettate, dobbiamo cercare quantomeno di non farci beccare, perché sennò altrimenti devo ricominciare tutto da cavo e non mi va. Ora. Uno. Se and... Cacchio. No. Fai finta di essere un tecnico. Sì, sono qui per l'avvento di potenza. Questo è il posto, certo? Prima vediamo qualche ID, tec. Non ti crede, ma va. Prova a parlarci, inventati un pretesto e ricattali. No, 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 no. F***, è che sia qui in un'altra parte. I ragazzi? Guarda, non facciamo questo complicate. Ti vergliate la pagina e... Ti vergirò la botella. Non ho idea, eh? Cosa è successo? Lasciarla nella tua altra pezza? Sì, lo sa. Scusa per il mixaggio. Ok, perfetto. Non ci hanno detto nulla? Ok, va bene. Ci siamo inventati la scusa del tecnico... tecnico delle riparazioni. Mi avevo lavorato qui, ricordi? Sì, sono sicuro. Igor, prendi una rata, per favore? Igor, prendi una rata, per favore? Va bene. Mi va, mi va. Dunque, la lettera I è quella qua. Analizzatore ambientale. Un'espansione del PDA con un contatore Geiger incorporato e dotato di funzionalità di scansione ambientale, utile per localizzare i materiali. Ottimo. Perfetto. Ora, che cos'è che devo fare? Ordina... Ah, F, equipaggialo. Nessuno di noi è al sicuro, va bene. Dobbiamo calarci nella fognatura, oddio. Però il contatore delle radiazioni non segnava a tre punto sì, quanto ha detto il tizio. Era più alto, era sì, mi sa. Bammete. E se ci fosse un altro buco? Tacco, punta. Eccolo. E mo' tocca a noi. Babamme. Eccoci. Dunque, il contatore di radiazione, o contatore dei Geiger, che abbiamo in mano, ci dà la possibilità anche di cercare, ecco, vedete, anche un po' di materiali. Per mettere un'onda radar con l'analizzatore ambientale e analizzare l'aria circostante, come detto prima. Dunque, aspettate perché... Qui il livello delle radiazioni è a ben quasi 20. Dunque, costruzioni, prendi, prendi. Parti elettroniche e parti infiammabili. Aspetta perché qua vedo parti elettroniche. Di qua non vedo niente. Mi sa che un po' più in avanti, ecco qua. Qui sono leggermente basse. Raccogli sostanze chimiche. E beh, certo. Non ne abbiamo così abbastanza di sostanze chimiche in giro noi. Voi andate pure, io faccio un piccolo giro di qua. Qui ne... Ah, aspettate. Parti meccaniche, d'accordo. Qua, se non sbaglio, mi sa che uno dei tecnici era sceso giù per... Ecco. Ok, perfetto. Sono morti anche loro quando hanno fatto questa cosa qui, purtroppo. Oddio. Meramente, ragazzi. È una cosa angosciante. Vediamo un po' se riusciamo a trovare dell'altro. No, per adesso niente. Se ci fai uccidere, mi cazzo. Sì, io devo pensare a quella a destra. E lui a quella a sinistra. Tac, punta. Babammete. E gli abbiamo tolto tutto quanto. Oddio. Gli abbiamo tolto la vita. Sì. Infatti. Bravo. Ciccio. Accuccia. 0,6. 1,7. 0,8. 1,1. 1,7. Oddio. Dunque, dobbiamo entrare qui. Oh là là. Ne passa... Eh sì. Il via al piano. AZ5 funziona. Dovrebbe essere uno di questi, AZ5. Premiamo pulsanti a ca... Non abbiamo tempo. E non mi importa di quello che pensano, non premere il pulsante ma digli la verità. Non premere il pulsante e inventati una scusa. Primi il pulsante. Comunque vada, non interferirà con il mio piano. Oddio. Vabbè, dai, su. Proviamoci. Alla stanza del reatore, eh. Che cavolo abbiamo combinato? Eh... Cosa abbiamo fatto? Ah sì, certo. Come dici tu? Sì, infatti, perché ha ammazzato completamente tutti. L'errore umano ha causato il disastro. Maronne. Soltanto dico io, povera gente che... Oddio. Questo qua è la sala del reatore. Dovrebbe essere quello il reatore numero 3. Perché è ancora integro. Che cavolo? Che cavolo? Che cavolo. È un'altro di più... Voi? Un'altra fissione più piccola, ma enough ranasti. Voi parlare di mi come questo... Un'циale di vaivano? Questa crea un tipo di scott misschien per tra il tempo e la spaz. Si chiama il funcro. Si fa un tunnello con due ma... Si lo necessite un'energia esotica, per mantenere la scuola. Un'energia esotica è... E'o' il Chernoboli? come avevo detto oddio no dai stalker oscuro ah eccolo oddio ando cavolo oddio questo qui dovrebbe essere il reatore il reatore Grazie a tutti. 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 Dio, ci vuole veramente tanto fegato per fare una roba del genere. Giorno 1, Chernobyl... Chernobyl, scusate, mattina. Oddio, dunque abbiamo... Ci potrebbe indicare, credo, delle strade. Allora, vedo un signore lì, però vorrei stare alla larga. Condizioni e psiche. Vita, radiazioni, d'accordo... Cacchio. Damose. Damose perché qua le radiazioni fanno male. Cavolo. Aspetta... Ah, qua dentro? Oddio. V per accendere o spegnere torce elettriche. Ah, ok, perfetto. Ci abbiamo pure una torce elettriche, ma non credo che consumerà batterie. Oddio, non ditemi che è acqua radiativa. Aspetta, devo andare per forza di qua. Ah, sì, devo scendere per forza. Dunque, vedo un po' di roba là sotto. Spazio per saltare. Una bottiglia di plastica. Anzi, farmaco antiradiazioni. Hai trascorso troppo tempo in aree contaminate e prendi un farmaco antiradiazioni nell'inventario per diminuire i livelli di radiazioni. Premi inventario per aprire... Sì, premi Iper l'inventario. Adrenalina arricchita. Farmaco. Ok. Perfetto. Però credo che... Non devo nemmeno tanto abusarne, perché sennò va finì che ci rimango stecchito. E... Ma qua che roba è? Che c'è un'altra strada di... Ah, sì, per vedere se siamo radioattivi o meno. Aspettate, ma questa qua non era l'entrata proprio della... Della centrale? Perché io mi ricordo che vedendo il film c'era proprio una cosa del genere. Vabbè, comunque sia, dobbiamo soltanto cercare di capire dove dobbiamo andare e che cosa dobbiamo fare. E come cercare la nostra fidanzatina. L'analizzatore ambientale mostra automaticamente tutti i materiali e gli oggetti presenti nell'aria. Ma anche è possibile impostare dei filtri per cercare specifiche categorie. Usa R e T. E seleziona erbe. Ti saranno... Anzi, ti serviranno per preparare i farmaci. Cercale e raccogliere. Razione di cibo. Erbe. Ullala, ne vedo un bel po'. Erbe, eccola qui. Fungo. Erba. Questa. Parti meccaniche. Cioè che poi voglio dire... Che cosa mi servono? Cioè mi servono. Voglio dire, no? Ho cercato erba e mi viene segnalata anche la parte meccanica. Era cotto ingredienti a sufficienza. Ora trovo un falò e usalo per creare una pomata curativa. Aspetta, fammi raccogliere ancora un altro pochino di roba. Tanto voglio dire che ne abbiamo in quantità industriale, no? Dunque, un falò. Dobbiamo accendere un falò. E dove l'accendiamo sto falò? Aspetta. Parti meccaniche, d'accordo. Dove l'accendiamo sto falò? Mi sa proprio qui, a 40 metri? Però aspettate. Parti infiammabili, elettroniche, sostanze chimiche, funghi, altro... Razione di cibo. Razione di cibo, raccogli questa... No, non vedo razione di cibo. Hai raccolto ingredienti a sufficienza. Ora trovo un falò. Sì, va bene, d'accordo. Il falò te lo trovo. Eccolo qui. Raccogli questo. Però... Mi sa tanto che... Siamo nella zona radioattiva, però. Inizio produzione. Dunque. Funghi, erba... Questa qua che roba, eh? Impossibile produrre. Sali balsamici. Erba e sostanze chimiche. Hai creato... Unguento. Hai raccolto ingredienti a sufficienza, sì. Pomata curativa, eccola qua. D'accordo. Tutti gli oggetti utilizzabili vengono aggiunti automaticamente al menu di accesso rapido. Puoi usare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per adoperare rapidamente il farmaco appena creato. Gli oggetti presenti nel menu di accesso rapido possono essere riassegnati tramite l'inventario. Dunque, inventario, pomata curativa e unguento antiradiazioni. Questo qui è ottimo. Una pozione che aiuta il corpo a espellere una piccola quantità di radiazioni. Viene creata con una miscela di candeggina, diluita e potassio. Non... Provateci a casa. E chi cavolo è che ci prova? Ma... Acuccia, buon uomo. Razione di cibo. Aspetta. Che cosa ho trovato? Parti infiammabili. Due. Ok, mi sa che mi sono curato. Allora. R e T, aspettate. Vedo ancora delle altre cose qua fuori. Meglio stare attenti. Perché ci possono sempre tornare utili queste cose. Specialmente ste cose qui. Ora. Vediamo un po'. Quello delle radiazioni non è poi così tantissimo. Fan club. Cerca di ricordare la parola d'ordine. E lo so. Grazie caro. Te sei appostato bene qua, eh. B per iniziare la ricostruzione della tua base. Wow. Mettresi in modalità costruzioni, puoi contrassegnare le strutture costruite in precedenza e smantellarle per recuperare i materiali premendo T. Fai pratica con i rottami presenti in giro. Oh la la. Wow. Oddio. Santa divinità. Vabbè, però comunque sia, non è che ci dà tanto, ci dà poco. Ora costruisci un banco da lavoro. Queste strutture basilari ti darà accesso a strutture più avanzate. Seleziona la categoria miglioramenti della base. E premi F per mostrare i contenuti. Poi ripeti le azioni con attrezzi da costruzione. Dunque Q ed E. Ah ok, io direi che il bancone guarda d'intorno mentre cammini per trovare un luogo dove costruire in base al colore in cui si illumina la struttura. Puoi capire se è possibile costruirla o meno. In quello specifico punto premi F per costruire il banco da lavoro. Dunque, ok. Tab per uscire. Ok, hai sbloccato la b... Mannaggia. Wow. Che figata. Oddio. Sì, è fatto veramente benissimo. Che cos'è che abbiamo sbloccato? L'inventario migliorazione della... Della base. No, aspetta. E... Ah, ok. Però mi sa tanto che... Eh, c'hai ragione. Degli che Tatiana... Che Tatiana non può aspettare. Dei ragione a Oliver. No, Tatiana non può aspettare. Non capisci. L'amore... Non teme rischi. Degli che hai ragione. Dunque, allora, Oliver avrà anche molta esperienza, ma non posso permettergli di prendere il controllo della missione. Ricordagli chi è che comanda. Eh, sì, raccogli. Grazie, Oliver. Vai al colpo? No, aspettate, prima di andare al colpo... Oddio, guardate un po' che figata, Maronne, bellissimo. Vivere in una città di questa sarebbe veramente bellissimo, soltanto che mo' ormai che cosa devi viverci più? Ormai non puoi più viverci, è tutto contaminato dalle radiazioni. È veramente un peccato, ragazzi, veramente un peccato. Io, arrivato a questo punto, direi quasi quasi, di completare qui questo primo appuntamento della serie di Chernobyl It. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate. E mi raccomando, fatemi sapere anche la webcam, come va, se magari è troppo grande o troppo piccola, eccetera. Detto questo, mi raccomando, lasciate un bel pollicino in su, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video per poter aiutare serie e canale a crescere e noi ci si becca molto presto in un nuovo video. Un saluto a tutti da G90 Gamer, ciao!